Ciao ragazzi sono Crax, bentornati su Clash of Clans Finalmente ci siamo dopo circa 5 giorni Si torna nel mio villaggio principale con un episodio farming di quelli top Proprio così, innanzitutto è domenica, buona domenica a tutti Seconda cosa, voglio ringraziare tutti i ragazzi che sono venuti all'evento di Nera Montoro Ci siamo divertiti un botto con il torneo, grazie di cuore a tutti, vi mando un abbraccione gigante Tornando a noi, non so se avete visto la miniatura e letto il titolo Probabilmente sì, altrimenti non avreste cliccato questo episodio Quest'oggi ci aspettano i draghi elettrici a livello 2 Avete capito bene, anzi, ve li avevo promessi Per il TH11 si possono fare a livello 2 Ovviamente li faremo, ma costano abbastanza, 9 milioni di Elisir E' quello il problema, perché oggi non è che io abbia startato un episodio con così tante risorse È solo, tra virgolette, 8 milioni di oro e 7 milioni 840 mila di Elisir Quindi facendo un conticino al volo, per fare gli Zapdos a livello 2 ci manca più di un milione 100 mila di Elisir Non è poco, ma insieme possiamo farcela Che poi tutto torna Zapdos, Zapdos a livello 2 Tutto perfetto Ok, dopo questa, scusatemi, potete anche chiudere l'episodio E io me ne vado No scherzo, ragazzuoli Prima di tutto, un bel pollicione all'inizio di supporto Preparatevi perché il prossimo episodio sarà un episodio veramente incredibile Sarà il primo episodio con il Grax sorvegliante maxato Se lo volete il primo possibile sul canale, 7 mila like, conto su di voi Grazie a tutti per il supporto E prenderemo anche le ricompense all'interno dei giochi del clan attualmente in corso Ce ne sono alcune molto interessanti Soprattutto 19 mila 200 di Elisir nero finale Vi ho detto tutto Per quanto riguarda invece l'oro Cioè la difesa che andremo a fare La difesa che ha vinto il precedente sondaggio Grax ha già controllato il sondaggio Sono cambiato Ha vinto la torre degli arcieri contro il mortaio Non mi ricordo la percentuale Un attimo che ci penso Carissimo Grax, mi raccomando ricordati di tagliare questa parte Sì, ora ricordo 73% l'arcieri contro il 26% del mortaio Ovviamente l'ho letto Solid i fail di Grax, sono incorreggibile Però ragazzi c'è un dubbio che mi attanaglia l'esistenza Io potrei tranquillamente già fare una torre degli arcieri a livello 14 con 8 milioni Però se facciamo un bel episodio farming Potrei anche riuscire in qualche modo a fare la torre degli arcieri La prima torre degli arcieri a livello 15 Cioè quella perfezionata Ma costa 9 milioni e mezzo Ci manca 1 milione 400 mila di oro Secondo me ce la possiamo fare Andiamo a fare subito il primo attacco Non ci sono eventi da completare Magari al primo skip Ci tengo a precisare che stiamo utilizzando uno Zapdos Sarà fondamentale Questo qua è molto molto interessante Ha difese bassissime Mura addirittura quelle dorate Lo schifo più totale Andiamo ad attaccare subito Partendo con la Queen Attenzione ragazzi Che non ho né il King Né il Grax sorvegliante E soprattutto Non è neanche del tutto inattivo Perché il piccione è proprio lì in agguato È prontissimo a scoperchiare il capo A togliersi la testolina Occhio alla Queen Che farà un versus Queen Uh quanti danni La Queen ancora in vita Ma sta subendo troppo hit La fura Vabbè Ragà Stavo guardando la Queen E ho rischiato di fare una cosa Veramente abominevole Anzi che ho sprecato l'abilità Cioè sono andato malissimo Andiamo con il Golem No ragazzuoli Va verso la torre Che disastro Che disastro di attacco Faileremo al 100% Vi prego spaccamuro Entrate Ottimo Così Si è attivato il piccione E la nostra Queen sta lì da solo al centro Non ce la faremo mai nella vita Messi tutti i bocciatori Ne manca uno Ho messo gli ultimi maghi Per fortuna che abbiamo Le furie Le furie saranno fondamentali Per la distruzione del centro del villaggio E soprattutto per fortuna Che quella torre infernale È multipla Se fosse stata singola Avremmo perso al 100% Vai Queen Verso spiccione Distrutto il pennuto Ottimo Così Abbiamo il draghetto elettrico Che posso anche mettere Da questa parte Perché il volano È direzionato verso il basso C'è solamente Una difesa aerea Ma non credo Che sia un problema Mi sono dimenticato Le caserme E la Queen Da gemmare No Avevo iniziato così bene Mi sono perso In un bicchiere d'acqua Infatti Ho perso la Queen E nel frattempo Ho perso anche l'attacco No Raga Che cosa abbiamo fatto Amici Ho commesso Un errore Incredibile Ho lasciato Per fortuna L'Elisir Per fortuna L'Elisir Perché se avessi lasciato l'oro Non sarei mai riuscito A fare la torre degli arcieri A livello 15 Che fail pesantissimo Mi sono distratto L'ho giocata Veramente male Ce ne torniamo Con un 420.000 di oro E 340.000 di Elisir Più il bonus Ma con un 66% Una stella Siamo messi male Anzi Siamo messi male Perché in questo periodo Ci sta benissimo Ho potenziato le caserme E imposto al volo Il terzo esercito Che brutto attacco Che ho fatto Queen Bentornata Ci prendiamo al volo Una missione Me lo sono dimenticato prima Ma sono dettagli Mi prendo questa della Queen E andiamo subito Di nuovo In ladder Seconda battaglia Sono sempre nella stessa situazione Archer Queen Walk Con solamente la Queen Senza Crax Sorvegliante E King Però dobbiamo fare meglio Devo fare di meglio No vabbè Non ci credo Ma che villaggi Stiamo incontrando Il rischio di fail È molto molto alto Ve l'ho detto ragazzi Ci butto qua un maghetto Bombone gigante Che paura Ne mettiamo un altro Cercando di distru... Quanta roba c'è lì Tutto vicino a quella torre degli arcieri Sta tutto concentrato lì Ci butto anche un altro maghetto Purtroppo Quell'arco X Vabbè l'abbiamo distrutta Va benissimo Vado di Golem Cerchiamo di fare questo 100% Attenzione Perché potrebbe esserci anche il castello Il castello è vuoto Via libera Amici miei Stiamo attaccando Con una Gowive Di quelle top Già ho sprecato tutti quanti i maghi E... Mettiamo il dragozzo elettrico Da questa parte Cercando di distruggere Subito La difesa aerea Il drago elettrico No raga No raga Zapdos Zapdos No raga Zapdos L'ho messo No ragazzi Feliamo un'altra volta Fatemi mettere Subito l'ariete Oggi non sto giocando Per niente bene Cioè oggi sto giocando Veramente malissimo C'è solamente la Queen Al centro Ma dove sono le truppe Non ho più truppe Non è possibile Per fortuna i pecca Ho messo un'altra furia Mettiamo una cura Qui in corrispondenza Della Queen E distruggiamo a questo punto L'arietozzo OMG Che cosa sto combinando Queen ti prego Distruggi subito L'arco X Non andiamo Da nessuna parte Ma hanno aumentato Il rischio di fail Cioè fatemi capire Sono costretto a mettere Un'altra cura qui No ragazzi Abbiamo failato di nuovo Vi giuro Abbiamo failato di nuovo Non ci voglio credere Cioè in realtà Abbiamo ancora tre pecca E con quei tre pecca Possiamo distruggere tutto Ma Grax Che cosa stai combinando Andate pecca Distruggete il piccione C'è il pecca in basso Che ci aiuterà A fare un probabile 100% Invece no Perché non c'è più L'episodio farming Più failoso Della storia Ridatemi il king Ridatemi il Grax Sorvegliante Non sono per niente Attento E preciso Vi prego Almeno prendiamo Tutto l'elisir Altrimenti Non riusciamo a fare Nemmeno i draghi A livello 2 Per fortuna che i peccano Un disastro di vita E sicuramente prenderanno Tutte quante le risorse Abbiamo azzerato tutto Ma non abbiamo centato Questa base Amici mi sento male No raga i goblin Mi sono dimenticato i goblin Se avessi messo i goblin sotto Forse sarebbe stato Un cento per cento Sono letteralmente distrutto Però Occhio Settecento Mila Di oro Via con il terzo Io lo so Che vi piace Vedermi failare Ma questa volta Vi andrà male Perché tristellerò E l'ho trovato Anche subito Quattrocentocinquantatremila TH11 Completamente inattivo E tutto stretto Sì ragazzi Sono con i domatori E le pozioni della cura Queen messa subito Da quella parte Questa volta Lo voglio fare Fatto bene Grax concentrato Perché se faccio Tre fail su tre Credo sia un episodio Che entrerà nella storia Distruggiamo subito Il deposito di oro E speriamo che la queen Vada verso il basso Fino a qui ci siamo Golem tattico Vado con i maghetti C'è una bella affluenza Lì di difese Quindi subito gli spacca muro E gli spacca muro Non spaccano E gli spacca muro Non spaccano Cominciamo subito Con il fail No please No Non me lo merito Ragazzi No ragazzi Vabbè E allora È un complotto Allora è davvero un complotto No non è possibile No ragazzi Non è possibile Con questi 12 domatori Io devo assolutamente tristellare Gli ho messi tutti i belli laterali E ne ho messi già la metà Cerchiamo di supportarli E con pozioni eventuali della cura Non ancora Aspettiamo che vadano sul settore Quello un po' più in alto Prima pozioncina della cura La queen è al centro Ne abbiamo altri 5 Da mettere tutti qua laterali Sta andando abbastanza bene Vado con un bel draghetto elettrico Per il momento ci siamo La queen ha ancora l'abilità Ma possibile che senza king E grax sorvegliante Cambia così tanto l'attacco Oppure sono semplicemente io un nabbo Credo sia di più La seconda affermazione Ma ragazzuoli questa volta ce l'abbiamo fatta Bastava un pizzico in più di attenzione E probabilmente avremmo tristellato anche le altre basi Facile dirlo dopo Perché le ho felate malissimo Un minuto rimanente Ce l'abbiamo fatta Rimangono solamente 3 strattori Quindi 140.000 di lissier Li prendiamo in tutta tranquillità E ce ne andiamo Con un tristellamento Sì ragazzi Mi mancava questo profumo di tristellamento Questo profumo di successo Tra l'altro quasi 700.000 di oro E la cosa bella è che non abbiamo neanche sprecato l'oro in eccesso Siamo a 9.930.000 Torniamo al villaggio Bonus stella completato Non ci rimane altro Che fare gli upgrade Anche la sfida abbiamo completato Che top Io comunque sono ancora scioccato per i primi due fail Maronna che brutte cose Andiamo subito con la torre degli arcieri A livello 15 9.500.000 E con questa abbiamo impiegato tutti quanti i moratori Mentre con l'elissier Dobbiamo fare Gli zapdos A livello 2 Draghetti elettrici Eccoli qua Li troviamo nel laboratorio Saranno carinissimi Ci metteranno 10 giorni Tra 10 giorni Diventeranno molto più grandi Quelli di livello 1 Li avete visti Sono molto molto piccoli E non mi piacciono 9.000.000 di lissier Bam Andati Potrei farli con il libro Ma per il momento Non ce lo spreco Anche perché Siamo a fine episodio E non avrebbe senso Detto questo Come sempre vi ricordo Un bel pollice all'inizio di supporto Forse è meglio questa faccia Dopo i bruttissimi fail fatti Commentino qui sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Che sarà probabilmente domani O Clash Royale O Fortnite Buona domenica a tutti Ciao a tutti ragazzi Ciao